scusi eh ma eh volevo parcheggiare o mai che vuoi scusa ascoltate da stamattina sono qui a tenere il posto si va oh non può mica fare lei di pigliare il posto voi che siamo ancora gli anni 80 è uno figli posto prima arriva e chi prima chiamo vigile chiamo via voglio vedere io voglio vedere ma non mi interessa ci sono io io c'ho da fare c'ho da fare c'ho da fare c'ho da fare la spesa tu scendi si scendi ma poi che c'è tuo qui non ho capito che è mio c'è mio qui tutto io c'ho voglia da me che ti fosse e questo qui mi ci vuole a me dopo per portarci l'altra macchina c'erano due da fare la spesa grossa no è questo in questo parcheggio in quello che ci vuole che appoglia di un mio amico deve mettere lì ma è in quest'altro quello mi ci vuole a me perché andava con lo sportello si e allora è questo allora questi mi ci vogliono a me c'ho da fare la spesa grossa l'ho detto su tutto qui anche questo qui ne ha anche qui tra riga e riga non si può mettere no no se la c'è le strisce c'è le strisce di pedone tu le lacci sulle strisce pedonali se la metti lì non ti dà noia capito ma sei sicuro non è che passa vicini mi fanno la multa mettila la lamiretta vai vai vieni su vai ancora vai tu può andare tu può andare lasciala o si lasciala o si allora arrivederla eh rivederci pronto vigili urbani e volevo segnalare una macchina sulle strisce una certa di ma allora ma anche il mondo ma anche il mondo ma anche il mondo si vive